Ok, bentornati a Radio Design, qui dall'Istituto Italiano di Design. Oggi sono in compagnia di Marta Crisolini Malatesta, con nomi complessi, molto anche noti al grande pubblico, scenografa e costumista. Benvenuta Marta. Grazie, buongiorno. Perché Marta è qui con noi? Perché fra pochissimi giorni ci sarà il debutto nazionale dello spettacolo Maestre Margherita di Bulgakov, prodotto dal Teatro Stabile dell'Umbra. Tu Marta, hai realizzato sia la scenografia che i costumi di questo spettacolo, giusto? Giustissimo. Allora, ce ne puoi parlare un pochino? Come è nata la ricerca sui costumi e anche la scenografia? Come hai pensato il tutto? Che immagino sia stato un lavoro gigantesco. Abbastanza, molto difficile. Primo perché è un romanzo. Certo. E non è un testo teatrale. Sì. Per cui Letizia Russa ha riscritto questo testo facendo veramente un lavoro incredibile. Però rimane sempre un romanzo su tanti livelli, tanti piani. Questo è ancora molto difficile perché ci sono vari mondi, si passa dal diavolo tutto quello che riguarda questo Voland. Sì, rappresentato da Riondino, lo ricordiamo. Sì. E c'è un mondo russo che vive la Russia degli anni trenta. E poi c'è tutto quello che riguarda Ponzio Pilato, per cui si passa su tre livelli completamente diversi. E' sempre difficilissimo fare i romanzi. Non è come fare i testi teatrali scritti per il teatro perché ci sono tanti posti, tanti ambienti da rappresentare. Per cui il tutto deve essere un sunto che funziona per tutto. Per cui si parte, almeno io di solito parto dalla scatola. Cioè la scena, perché io faccio scene e costumi, per cui per me sono due cose molto legate. Sì. Per cui parto da quello, parto da un'idea che sia in questo caso astratta e concettuale, che possa funzionare in ogni... Il luogo può essere mille luoghi, è un luogo di apparizioni. Sì. E su quello ho lavorato. Poi per quanto riguarda i personaggi, fare i costumi, non è fare la moda, non è disegnare un vestito. Sì, è totalmente diverso come lavoro. È un'altra cosa. Tu immagini quel personaggio e lo immagini secondo il suo carattere, secondo quello che deve rappresentare, no? Sì, sì. E allora, ti faccio un esempio stupido. Ho letto di Ella e questa strega, no? Che era teoricamente... Strega del diavolo. Sì, doveva essere una bellissima donna. Io invece l'ho immaginata come una bambina capricciosa. Sì. E allora c'ha un vestitino un po' come se fosse uscito da una scuola. A un certo punto entra con la cartella, la vecchia cartella, no? Sì. Per cui ognuno ha un po' un immaginario che non dipende soltanto da me, perché sempre il mio lavoro non è creativo, ma fino a un certo punto ho un testo e ho soprattutto... Ti do un altro microfono perché riserva scollegato, prego. Soprattutto un lavoro con il regista. Ok. No, uso questo, scusa, perché non so se è scollegato. Due, se ho troppi. Va benissimo. Si era scollegato un attimo il microfono, non so perché. È interessante questa cosa. Ma ci sono tipo, che ne so, predominanze di colori? Per esempio, a livello di colore, come ti sei fatta ispirare? Ma diciamo che il mondo Voland, cioè il mondo del diavolo, è fuori dal tempo. Nel senso che non hanno una connotazione storica, hanno una connotazione mia. Totalmente arbitrario legato a te. Si è legata a quello, a come li vedevo. Perché in realtà penso che non abbiano un tempo. Certo. E possono poter... Cioè, teoricamente, stiamo parlando del diavolo, c'è sempre, ci sarà sempre, non ha un tempo. Sì. È di tutti i tempi. Mentre poi il resto è molto più lineare, diciamo che è tutto quanto un po' 30-40, con tutti i resti dei personaggi. Sì. E poi c'è questo mondo un po' invece di Gelusalemme, insomma, tutto, che sono dei tratti, dei cenni, che arrivano durante lo spettacolo, ogni tanto si passa in questo mondo antico. Sì, sarà sicuramente una cosa molto eclettica da vedere. Sì, ma è uno spettacolo bellissimo. Cioè, è uno spettacolo fatto di tanta immaginazione. Invece era nella scena che... Non tanto per il mio lavoro, per il lavoro proprio di regia. Sì, di Andrea Baracco, lo ricordiamo. Sì, Andrea, che veramente io lo adoro. Cioè, mi piace lavorare con lui. È fantasioso, mette sempre del suo. E in maniera tanto, tanto grande. E c'è un immaginario veramente incredibile. Sono anni che lavoro con lui e non mi stanco. Eh, beh, questa è una cosa positiva. Poi in un lavoro creativo è fondamentale. Invece sulla scenografia, no? Adesso, ovviamente non si può anticipare nulla. No, infatti non ti dirò niente. Allora, non possiamo sapere soltanto. Ti ho già detto troppo. Non possiamo sapere nulla. No, dovete venire a vedere lo spettacolo. Allora, niente. Se mi racconto tutto e poi lo spettacolo non lo vedete. Io ci ho provato. Quindi è il 9 settembre al Teatro Solomeo. Quindi possiamo dirlo. No, è una scena semplice. Molto semplice. E funzionale, diciamo. Sì. Però non ve lo voglio dire, perché voglio dire qualcosa, mi segnerà... No, no, ovviamente. Tanto poi ci sarà la tournée, quindi si girerà tutta l'Italia, in tutti i teatri di Roma, in tutta Italia. Sì. A partire da ottobre, sostanzialmente. Quello che ha questo spettacolo, secondo me, è che immaginare, almeno nel mio immaginario, il maestro è Margherita. E, diciamo, a parte il fatto della difficoltà di poterlo rappresentare, perché non so se tu l'hai letto, ma è una follia. Sì, sì, l'ho letto. È folle come libro. Io, mentre lo leggiamo, dicevo, ma che sta succedendo? Come si fa a rappresentare una cosa del genere? Allora, o fai la cosa di tecnologia, più o ma... Che però poi riduce, insomma, è quello. Oppure hai un genio di regista che fa un lavoro sublime con dei segni, ecco. Ecco qui. E noi abbiamo questo, uno spettacolo di segni e di teatro, molto teatrale, il teatro. Ok, sì, infatti moltissimi attori hanno detto questo, proprio che parla del teatro questo spettacolo. È teatro, è teatro come poteva essere una volta, dove i rumori possono essere... Sì, vabbè, ci sono i rumori, c'è delle musiche bellissime, di Giacomo Vezzani, bellissime. Però, voglio dire, sì, una volta il tuono si faceva con una lamiera e si batteva, quell'altro, e noi stiamo lavorando. Non si può dire niente, non si può dire niente. Sì, bisogna vederlo. Chiudiamo ancora un minutino, su cosa stai lavorando? So che collabori anche con altri teatri stabili, quindi... Sì, adesso, quest'anno, c'ho vari spettacoli in giro, c'ho Salomè, sei personaggi in cerca d'autore, l'odore assordante del bianco con Preziosi, c'è questo. Adesso vado in Russia a fare un altro spettacolo. Insomma, ci sono tante cose che vanno in giro e che mi rendono molto contenta perché mi piace, il mio lavoro mi piace. Beh, questo è positivo, quando qualcuno piace il proprio lavoro. È sempre piaciuto e continuo a farlo perché mi piace. Bene, io la ringrazio tantissimo perché c'era un po' di ritrosia nel finire in video e quant'altro, quindi grazie mille. Forse è la prima volta che la vediamo da qualche parte, diciamoci la verità. Va bene, sì, no, io non mi piace andare né in video, né farmi le fotografie né parlare, per cui... Io ho fatto, sono riuscito a fare tutto questo. Ho detto, io sono un animale da palcoscenico da dietro, dietro il palcoscenico, non sopra, quello non è per me, io sto dietro. Ho compiuto un miracolo, dovete dirmi solo grazie a voi che potete ascoltare questo podcast e vedere il video che finirà anche su YouTube, insomma, sarà reperibile. Sarai felicissima, mi addirà tantissimo. Felicissimo. Bene, allora grazie mille per aver... Sono riuscito a fare questo miracolo. Grazie a te. Grazie ancora.